Dal sublime e ridicolo non c'è che un passo. La celebre frase di Napoleone Bonaparte spiega bene l'azzardo di Emmanuel Macron, accusato spesso dai suoi detrattori proprio di pensare a sé non come un politico di questi tempi ma un grande condottiero del passato. Ome, o il caos, la scelta di convocare elezioni anticipate dopo l'Europee dello scorso 9 giugno ha ottenuto il principale obiettivo, ridimensionare le mire della destra di guidare il paese. Le Pen e Bardella ottengono più voti di tutti ma il gioco delle desistenze del fronte repubblicano ideato dal presidente, fine conoscitore del funzionamento della politica francese, formatosi all'ENA, la scuola degli alti dirigenti d'oltre Alpe fondata da De Gaulle e frequentata anche da Hollande e Chirac ha funzionato. Si è messo in una situazione delicata, spiega Elisabeth Pinot, corrispondente dall'Eliseo per l'Agenzia Internazionale Reuters da più di 20 anni. Persino i suoi non lo avevano capito, ora l'interrogativo è se ha previsto tutti gli scenari possibili che decanteranno nelle prossime settimane o mesi. Gli allarmi sulle possibili dimissioni prima della fine del mandato sono rientrati, ma nel 2027, quando Macron non potrà più ricandidarsi, avrà solo 49 anni. Lui pensa già a come sarà ricordato, colui che ha salvato la Francia in un momento di difficoltà o l'ha condannata all'instabilità. Questi tre anni che restano saranno difficili. Lui vuole continuare a mostrarsi come il presidente di tutti i francesi, ma siamo entrati in una situazione completamente inedita.